salve amici e bentornati al canale charlie oggi andiamo a vedere una nuova codifica eseguita su una volkswagen t rock del 2020 con obd 11 e andremo ad attivare i fendinebbia automatici quando ci sarà il lampeggio degli abbaglianti attualmente se andiamo ad eseguire il lampeggio degli abbaglianti e i fendinebbia rimangono spenti grazie a questa codifica sarà possibile abilitarli mi raccomando questa codifica è compatibile solo con volkswagen t rock che hanno i fari led per quelli che invece hanno i fari alogeni c'è un altro tipo di codifica andiamo a vedere come funziona una volta che ci siamo collegati al nostro obd 11 vi consiglio sempre di fare scansione quindi per verificare ci sono eventuali problemi e fare i backup noi andiamo direttamente nella centralina numero 9 adattamento quindi adattamento qui andremo a scrivere sul cerca l e u c h t e e dovremmo cercare il 12 n l eccolo qui 12 n l b 45 che corrisponde al fendinebbia sinistro e qui dovremmo spostarci in ve lo scrivo leach fornish b 12 e qui dovremmo andare a selezionare un valore e mettere leach to general adesso abbiamo questo qui mentre dovremmo andare a mettere questo qui l'ip to general facciamo ok tenevo premuto per confermare quindi andiamo ad aprire il cofano prova di nuovo mettiamo il valore di sicurezza 3 1 3 4 7 ok torniamo indietro di 1 resta andiamo a prendere il fendinebbia destro 13 n l entriamo in questo qui andiamo a prendere il b13 che è questo e anche qui andremo a mettere questo valore qui ok salvataggio perfetto andiamo a vedere se funziona bene amici eccoci giunti alle conclusioni come abbiamo visto questa codifica è veramente semplice come sempre a parte il menu in tedesco grazie a questa attivazione sicuramente saremo molto più visibili e quando andremo ad eseguire il lampeggio grazie all'ausilio dei fendinebbia avremo più luce bene amici il video termina qui come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti a presto al prossimo video flavio flavio